Per il primo anno alla Show Motor Live c'è anche il Custom Village, un'area dedicata al custom, quindi alle moto, prevalentemente custom, e alle auto americane. Ci sono stendisti del settore del vintage e non solo. E in più domenica, oggi, stiamo facendo, faremo un contest dedicato alle pin-up, quindi tutte le signore e signorine che vorranno iscriversi potranno partecipare, avremo trucco e parrucco, metteremo a disposizione questo abito come primo premio, ci sarà una giuria fatta dal pubblico e basta. Quindi aspettiamo che ci siano le signorine e ci divertiremo. Ah, e ci sarà anche una gara di hula hop. Allora, oggi abbiamo fatto il contest pin-up al Custom Village. È stato vinto questo meraviglioso premio messo a disposizione da Stile Italiano, che è un'azienda qui di San Martino di Lupari. Bello perché ci siamo divertiti tantissimo, le ragazze si sono divertite, si sono fatte pettinare, truccare, hanno giocato con noi e anche il pubblico si è divertito. Grazie! Grazie a tutti!